A causa dell'emergenza sanitaria in atto, il Consiglio Provinciale si è riunito in videoconferenza. Sono stati approvati gli accapi relativi alla nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2020-2022, il bilancio di previsione relativi allegati, il bilancio di previsione dell'istituzione della Scuola di Protezione Civile, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, l'aggiornamento con modifiche del piano di riassetto organizzativo della provincia di Foggia, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi di cui al DUP e al PEG piano della Performance 2019-2021, report del controllo strategico al 30 settembre 2019, presa d'atto degli interventi correttivi autorizzati a seguito della richiesta motivata dei dirigenti, la nomina dell'organismo di revisione economica finanziaria del triennio 2020-2023, con la nomina del presidente, il dottor Antonio Chinno, rinviato l'accapo relativo all'approvazione del regolamento per l'utilizzo di modalità telematiche per lo svolgimento e la partecipazione alle sedute degli organi della provincia di Foggia. Il presidente Gatta ha dichiarato tra l'altro che con l'approvazione degli accapi all'ordine del giorno la provincia di Foggia è pronta ad affrontare la fase 2 dell'emergenza.